Allora, presentiamo i prossimi ospiti. I prossimi ospiti sono Anna Capietto e Christian Benareggi con lo speech Soluzioni per l'accessibilità alle scienze. Anna Capietto è direttore del direttore polling del Dipartimento di Matematica all'Università di Torino, mentre Christian è un collaboratore esterno e ci introdurrà nel pacchetto Latex Accessibility e altre attività di ricerca in corso presso il laboratorio. Ci tengo prima di far iniziare Anna e Christian a dire che potete forre le domande sul canale di YouTube o su Slack nella track 3 e di fare attenzione che lo streaming di YouTube è un po' in ritardo. Quindi passo la palla ad Anna. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di avere la possibilità di dire qualcosa agli Accessibility Days. La prima cosa, voglio solo precisare che per mia fortuna non sono direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Sono responsabile del laboratorio per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie assistive per le STEM che è dedicato a Sergio Polin e che è contenuto nel Dipartimento di Matematica. In realtà dirò pochissimo, vi si trova appunto presso il Dipartimento di Matematica che il laboratorio è membro del Consorzio Italiano Nazionale per l'Informatica Laboratorio sulle tecnologie assistive e tra le altre cose abbiamo stretti rapporti con organismi prestigiosi quali la PDF Association e la Association for Computing Machinery. Voglio anche dirvi che non posso diciamo rubare del tempo al Dottor Bernareggi per troppi minuti. Vi dico che il laboratorio è vivo grazie a quattro docenti del Dipartimento di Matematica e di Informatica, un tecnico della ricerca del Dipartimento di Matematica, quattro borsisti di ricerca. Tutte queste persone collaborano dopo o durante diciamo le loro altre attività di ricerca e di didattica. Abbiamo un solo titolare di assegno di ricerca, il Dottor Sofia, che lavora solo per il laboratorio. Una caratteristica del laboratorio è la presenza di numerosi volontari. Tra questi volontari ci sono molte persone con disabilità visiva. Una caratteristica che per fortuna già Sergio Mascetti ha sottolineato è che la ricerca nel campo delle tecnologie assistive va fatta con gli utenti finali e noi non siamo assolutamente in grado di sviluppare qualche prodotto e poi consegnarlo chiave in mano a una persona per esempio con disabilità visiva. Le nostre attività sono, certo non vi farò, non spenderò tutto il tempo che gentilmente ci dedicate al dettaglio, ma posso dirvi che ci sono tre filoni che sono ricerca pura, attività di carattere più tecnico-informatico e magari fra di voi c'è qualcuno che ha sentito parlare di una cosa, la terza missione che è molto in voga negli Atenei. Terza missione si intende non solo didattica, non solo ricerca pura, ma disseminazione delle attività di ricerca verso il territorio. Posso dire che il laboratorio Polin che è nato ormai diversi anni fa ha iniziato a fare la terza missione prima che venisse coniata questa nomenclatura. Comunque voglio solo spendere due parole in realtà per ringraziare di nuovo Sergio Mascetti perché Sergio Mascetti mi ha aiutato a capire che quello che sto per dirvi rientra sotto il capitolo disabilità situazionale. Allora io voglio dirvi che l'emergenza Covid è un esempio macroscopico di disabilità situazionale nel senso che mentre in una lezione universitaria standard, un cieco non vede la lavagna, un sordo non sente la voce del docente, un disabile degli arti superiori non può prendere appunti, l'emergenza Covid ha messo tutti in questa condizione. Allora una delle cose che sta facendo il laboratorio Polin è di sviluppare delle tecnologie assistive per far sì che mentre io e tutti quelli come me, cioè i docenti delle università tappati in casa davanti a un computer erogano lezioni, allora è proprio adesso il momento in cui queste lezioni possono essere finalmente erogate in maniera accessibile. Nell'ambito della terza missione abbiamo fatto e facciamo, questo è solo un cenno, facciamo dei corsi di trascrizione di testi contenenti formule in collaborazione, si li abbiamo fatti già nel 2015 e 16 ancora, in collaborazione con l'IRIFOR e l'Unione Italiana Cecchi Ippovedenti, il Comune di Torino, il Centro Territoriale di Supporto del Comune di Torino. Oggi siamo consulenti di uffici disabili di alcune università e l'ultima cosa che dico, capitolo disseminazione, abbiamo ottenuto dei corsi di potenziamento lavorativo con dei tirocini grazie alla città metropolitana di Torino, cioè abbiamo fatto appunto dei corsi di potenziamento rivolti a disabili visivi inseriti nelle liste del collocamento, quindi disoccupati, li abbiamo inseriti in tirocini presso aziende per tre mesi, presso aziende della città e oggi posso dire che due di questi tirocinanti sono riusciti tramite questi tirocini ad avere delle posizioni a tempo indeterminato. Queste attività rientrano in un progetto che si chiama disabilità in azienda, professionalità avanzata, ricerca e integrazione, che è partito ormai nel 2014, ma è ben vivo e vegeto grazie a Reale Mutu Assicurazioni. E con questo è finito, diciamo, il pistolotto di carattere generale e do la parola a Cristian Bernareggi. Grazie Anna, buonasera a tutti. Io vi introdurrò ad alcune delle attività del laboratorio, in particolare relative alle attività che si conducono sugli strumenti, sulla progettazione e sviluppo di strumenti per l'accesso alle STEM, quindi alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica, di ausilio alle persone con disabilità. Ho un problema nel condividere lo schermo. La voce è spenta. Ok. Dunque, iniziamo dalla considerazione, dalla seguente considerazione. La documentazione scientifica, in generale le discipline scientifiche, pongono problemi svariati, problemi di accessibilità alle persone con disabilità, con vari tipi di disabilità, alle persone con disabilità visive, per esempio, alle persone sorde, alle persone con disabilità motorie, per varie ragioni. Dal lato, un primo aspetto riguarda la fruizione delle formule, dei grafici e delle tabelle, delle formule perché la notazione matematica ha dei simboli specifici e delle strutture notazionali specifiche che devono poter essere lette, immaginiamoci nel caso delle persone con disabilità visive, non possono essere lette in due dimensioni, devono essere lette su una riga o ascoltate. Quindi, se non sono disponibili in un formato adeguato, non c'è un modo per poterle fruire. Per quanto riguarda i grafici, devono essere rappresentati in formati accessibili, per esempio, per le persone con disabilità visive, il grafico, sia per i ciechi che per i povedenti, pone problemi di fruizione. Possono esserci grafici troppo complessi, per esempio, rispetto alla complessità del grafico stesso, oppure rispetto, per esempio, alla quantità di informazione veicolata tramite il grafico. Nel caso degli povedenti, se ci sono sfumature, per esempio, oppure caratteri scritti all'interno del grafico con font che non si possono leggere, si hanno significativi problemi di leggibilità. Per quanto riguarda le tabelle, vale lo stesso, sono strutture bidimensionali, e nel caso dell'ipovisione difficilmente possono essere colte quelle relazioni spaziali a colpo d'occhio. Nel caso di una persona che non vede, è necessario che le tabelle si possano esplorare in modo strutturato, quindi, per esempio, navigandole lungo la riga, lungo la colonna, ma anche lungo le diagonali o lungo le sottodiagonali, per ottenere informazioni tra i vari elementi presenti nella tabella. Ma non solo ci sono problemi di lettura e di fruizione, ma anche di interazione, quindi di scrittura e di semplificazione delle espressioni matematiche. Questi problemi riguardano, ad esempio, le persone con disabilità motorie che non riescono così facilmente, così immediatamente, a scrivere su una tastiera, o ad esempio a tenere una penna. In alcuni casi è possibile, in altri casi no. Nel caso, per esempio, della tetraplegia, oppure di disabilità agli arti superiori, anche semplicemente di alcuni disagi, per esempio, dovuti a tendinite o piuttosto che ad altre patologie temporanee della mano. Non riuscire a tenere una penna poi può porre difficoltà nella scrittura e di espressioni matematiche, che richiedono una loro specifica, come dire, rappresentazione nello spazio. Quindi queste difficoltà, se non sono affrontate, quindi se non ci sono strumenti per poterle superare, creano numerosi problemi agli studenti che vogliono intraprendere studi scientifici, a partire dalla scuola secondaria, se non anche dalla scuola primaria, e soprattutto, in particolare, in università. è un po' una reazione a catena, se uno studente non ha possibilità di accedere con entusiasmo e con soddisfazione agli studi scientifici nella scuola secondaria, difficilmente andrà a scegliere durante l'università. Quello che stiamo facendo nel laboratorio è quello di individuare nuove soluzioni appunto per poter affrontare questi problemi. Ad oggi vediamo, per esempio, cosa esiste per leggere le espressioni matematiche. In generale, il problema della lettura dei documenti scientifici con espressioni matematiche non è un problema che riguarda solamente le disabilità, per cui ci sono varie modalità di rappresentazione della matematica in formato digitale. I modi più comuni, ad oggi, sono le espressioni inserite come immagini all'interno dei documenti. Possono essere documenti Word, documenti PDF, pagine web. Le espressioni inserite come con un linguaggio di markup per le pagine web in particolare, per esempio attraverso MatML, o attraverso Latex, scritte in Latex, un linguaggio di markup per la composizione di testi scientifici usato nell'editoria, usato anche da docenti, in particolare da docenti universitari, per produrre il materiale da diffondere all'interno di un corso di laurea per gli studenti. Quindi note del corso, dispense, esercizi, temi d'esame. E infine i PDF, che possono essere generati da Latex, o anche da altre fonti, che contengono espressioni matematiche e anche immagini. Tuttavia, un particolare problema che si incontra nell'uso di questi formati si ha con i PDF, i file PDF generati da Latex. Latex è estremamente utilizzato nella comunità scientifica e presso, appunto, dai docenti, ma quando si genera il PDF e di per sé in modo sorgente, diciamo, il codice iniziale Latex, il documento può essere utilizzato, può essere letto, anche con uno screen reader, un lettore vocale o una di Gabriele, per esempio, ma ci sono problemi significativi quando si genera il PDF, perché i PDF generati di fatto non sono accessibili, non sono leggibili. Sostanzialmente per due ragioni. Da un lato, le espressioni matematiche non vengono preservate nel PDF in formato sorgente. quindi succede che visivamente si riescono a vedere, a leggere, ma se si cerca di leggerle con una barra Braille o con un lettore vocale, un lettore di schermo, sostanzialmente non si legge nulla o si leggono dei caratteri speciali introdotti automaticamente dal reader PDF, ma niente di comprensibile da parte del lettore. E dall'altro lato, invece, si hanno problemi con la struttura del documento. Per esempio, in LATEC il documento si può dividere in sezioni, in sottosezioni, si possono individuare elenchi puntati, numerati, tabelle. Tuttavia, queste strutture non vengono preservate nel documento PDF quando si genera. Per questa ragione abbiamo, presso il laboratorio Polina, abbiamo sviluppato il pacchetto Accessibility, che è un pacchetto LATEC che si può richiamare nel documento LATEC sorgente e che permette di generare PDF accessibili. In questo processo l'autore deve semplicemente richiamare il documento attraverso un'istruzione nel processo di scrittura del documento iniziale in LATEC. Non è necessario avere conoscenze specifiche sulla disabilità sulle disabilità o su come la persona non vedente, ipovidente, con qualche altro genere di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento fruirà del documento. Proprio questo è un aspetto a cui teniamo molto, facilitare tutto il flusso di lavoro fin dall'inizio in modo che comunque l'autore o l'editore non debba avere conoscenze troppo specifico, troppo dettagliate, altrimenti e che non debba richiedere tempo, altrimenti sostanzialmente difficilmente potrebbe diventare uno strumento ampiamente utilizzato e difficilmente un autore potrebbe dedicare troppo tempo a tenere in considerazione caratteristiche di accessibilità. Il flusso di lavoro è il seguente, si parte dalla scrittura del documento introducendo il pacchetto, viene generato il file PDF, la persona con disabilità legge il documento in PDF attraverso un lettore di schermo per esempio NVDA o JOS per Windows o anche VoiceOver o anche su un display Braille. È possibile leggere l'espressione matematica o in LaTeX se la persona conosce LaTeX o attraverso i dizionari che abbiamo sviluppato presso il laboratorio che permettono una lettura dei termini in un linguaggio del LaTeX usando termini del linguaggio naturale quindi semplificando la lettura dell'espressione matematica. Non è ancora la migliore lettura possibile ma stiamo lavorando per esempio per estenderlo per estendere questo modello di lettura attraverso componenti aggiuntive per i più comuni screen reader. Uno sviluppo futuro per esempio è quello di estendere accessibility di estendere NVDA con un head-on per facilitare non solo la lettura ma anche la navigazione. Un altro sviluppo verso cui vogliamo stiamo andando è quello di permettere attraverso accessibility anche il tagging ossia quel processo che permette di preservare la struttura del documento anche nel PDF finale. Quindi per esempio per permettere la navigazione tra le sezioni tra le tabelle tra le figure tra le espressioni matematiche e come noto permettere la navigazione facilita in generale l'accessibilità sia per esempio per le persone con disabilità visive ma anche per le persone con disabilità motorie perché non devono per esempio scorrere tutto il documento ma semplicemente con l'ausilio che stanno utilizzando andare a selezionare da una gerarchia di elementi la sezione a cui sono interessati. Grazie al pacchetto accessibility appunto e a questo procedimento di generazione del PDF abbiamo creato presso il laboratorio una biblioteca di testi accessibili sono testi principalmente sono testi scientifico e finora a carattere universitario per esempio che riguardano l'analisi 1 l'analisi 2 e l'algebra lineare e vorremmo poi man mano nel tempo aggiungerne di nuovi considerando le discipline più più comuni ma anche più anche aspetti trasversali tra le discipline per esempio la statistica riguarda sicuramente gli studi di chi si occupa di matematica ma anche chi studia psicologia ha necessità di fare di conoscere alcuni elementi di statistica o chi studia informatica o chi studia economia vediamo invece il problema dell'accessibilità ai grafici i grafici di per sé ho segnalato che pongono problemi di accessibilità in particolare alle persone non vedenti e povedenti ad oggi le soluzioni che esistono per esempio sono la stampa rilievo le rappresentazioni audio-tattili descrizioni diciamo testuali quindi per esempio una descrizione dettagliata di un grafico di un'immagine associata all'immagine stessa e rappresentazioni che permettono di adattare le dimensioni il contrasto i caratteri presenti all'interno dell'immagine tuttavia queste descrizioni non sono sufficienti per poter comprendere pienamente e facilmente alcune tipologie di grafici in particolare per esempio i grafici di funzione o molteplici grafici di funzioni rappresentati nello stesso piano cartesiano una tecnica che stiamo impiegando e su cui stiamo conducendo ricerca è quella della sonificazione la sonificazione che già Sergio vi ha esposto precedentemente è sostanzialmente un modo per rappresentare informazioni visive attraverso il suono noi l'abbiamo applicata alla esplorazione di grafici di funzione in particolare attraverso un'applicazione disponibile sul sito del laboratorio che è Audio Functions Web che è stata sviluppata da una sinistra di ricerca del laboratorio Dragan Akhmetovic che ha lavorato per più di un anno presso il laboratorio come assiste di ricerca e questa applicazione permette di esplorare grafici di funzione mediante il suono sia attraverso la tastiera muovendosi diciamo con la tastiera o con il mouse ma in particolare utilizzando un tablet quindi avvalendosi sia del riscontro sonoro che anche della proprio accezione sostanzialmente la consapevolezza che ciascuno ha di dove si trova per esempio il dito sul tablet in questo modo si possono associare informazioni di posizione con informazioni quantitative e qualitative del grafico veicolate attraverso il suono in questo modo si può più facilmente esplorare un grafico di funzione e questo di funzione per esempio una parabola una sinusoide grafici di questo genere che come dire è un'attività utile indubbiamente utile già a partire dalla scuola superiore ma che poi risulta indispensabile se si vogliono portare avanti studi scientifici vediamo soffermiamoci ora in particolare sulle difficoltà che incontrano le persone con disabilità motoria e come vi ho accennato all'inizio le difficoltà sono da un lato nella scrittura delle espressioni matematiche poiché l'espressione matematica non è soltanto testo non è soltanto una sequenza di simboli ma è una sequenza di simboli specifici posizionati nello spazio pensiamo alla frazione c'è un numeratore che è sopra una linea di frazione scendendo in verticale una linea di frazione e poi c'è un denominatore che sta sotto la linea di frazione o semplicemente all'esponente l'esponente non sta a destra della lettera o del numero ma sta in alto a destra lo stesso per un pedice quindi un numero o una lettera posta in basso rispetto a un certo elemento di notazione quindi poter collocare nello spazio tutti questi elementi risulta difficile per una persona che ha qualche disabilità motoria agli arti superiori in particolare che coinvolge le mani quindi non solo la scrittura ma anche la semplificazione delle espressioni matematiche stesse per esempio se ogni volta quando sto semplificando un'espressione matematica devo riscrivere quando vado al passaggio successivo devo riscrivere completamente il passaggio precedente e magari cambiare soltanto un segno beh questo pone sicuramente problemi di accessibilità per una persona con una qualche disabilità motoria e non solo per una persona con disabilità motoria oltre al fatto che tendenzialmente si è più esposti all'errore avendo più difficoltà nella digitazione o nella scrittura si è più esposti a commettere errori di digitazione o di scrittura che possono essere tollerati in un testo letterario ma non possono essere tollerati in un'espressione matematica perché generalmente portano ad errori quindi se io scrivo un meno al posto di un più avrò un errore poi nella semplificazione per affrontare questi questi problemi ci stiamo stiamo conducendo ricerca su sulla dettatura in generale sull'interazione vocale per le STEM diciamo per la quindi scienza tecnologia ingegneria e matematica i sistemi per diciamo che poter dettare chiaramente è un processo che non coinvolge nelle mani negli arti superiori però presuppone che la persona che detta abbia sia in grado di poter parlare abbastanza in modo abbastanza fluido o fluente e richiede anche che conosca il linguaggio per poter dettare che è sicuramente diverso da quello che si usa nella come dire nell'italiano corrente per la matematica quando si detta un'espressione matematica a voce è indispensabile poter non essere ambigui quindi se io devo introdurre un'aperta parentesi a un certo punto devo chiudere la parentesi devo dirlo che devo chiudere la parentesi o in qualche modo quella parentesi deve essere chiusa esattamente quando voglio io perché diversamente potrei generare degli errori quindi ad oggi non ci sono strumenti che permettono questo in modo semplice in modo anche diciamo facilmente fruibile dall'utente finale stiamo appunto per questo conducendo ricerca da un lato sul modello di interazione cioè basta dettare sufficiente dettare quale riscontro visivo dobbiamo dare alla persona quali termini dobbiamo introdurre nel linguaggio per dettare in modo corretto e per svolgere operazioni facilmente delle operazioni di semplificazione delle espressioni stesse queste sono alcune delle domande che ci stiamo a cui stiamo cercando di dare risposta e non solo per esempio un'altra domanda è come come gestisco l'errore cioè se ho se come sapete i sistemi di riconoscimento della voce non sono perfetti sono un po' come i primi OCR i primi software che si utilizzavano con lui scanner per riconoscere il testo se io detto qualcosa non viene riconosciuto correttamente come reagisco il sistema come deve reagire all'errore lo deve correggere automaticamente siamo in grado di farlo deve dare dei suggerimenti oppure semplicemente è meglio consigliare di ripetere quello che è stato detto annullare e ripetere ecco in questa direzione ci stiamo muovendo per poter per poter creare un sistema che permetta la dettatura l'interazione vocale l'interazione vocale con diciamo per dettare e semplificare espressioni matematiche in generale testi contenenti testi scientifici contenenti testo e espressioni matematiche una considerazione questo lavoro nasce da uno studente con disabilità motoria che è studente di matematica presso il dipartamento di matematica dell'università di Torino e che col quale ci siamo confrontati e ancora una volta grazie alla come dire alla sua esperienza proprio al coinvolgimento della persona che poi potrà fluire del sistema che è partito il lavoro di ricerca e che ha ispirato la ricerca e che sarà importante in tutte le fasi dello sviluppo del sistema in particolare quando potremo fare delle valutazioni delle valizzazioni delle idee di ricerca proposte di ricerca e di sviluppo proposte ecco io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e vi chiederei se ci sono domande di pormele in questi ultimi credo 10-15 minuti se poi foste interessati ad approfondire questi temi sicuramente potete contattarci all'indirizzo email che abbiamo riportato nell'ultima slide il mio in particolare è christian.bernareggi at gmail.com o potete consultare il sito web del laboratorio Polin progetto integrabile perché questo sul sito potrete potrete trovare sia le informazioni su quanto vi ho presentato fin qui ma anche potrete accedere al pacchetto accessibility e ai suoi aggiornamenti e all'applicazione web all'applicazione audio functions audio functions web christian grazie emil per il intervento volevo dirti che sergio ha scritto in chat che dovreste continuare questa collaborazione sul lavoro sull'accessibilità delle funzioni e hai una domanda anzi due fatta da fatta peste su canale di youtube che ti chiede è possibile sentire lo screen reader mentre scorre la presentazione per vedere cosa si ascolta nel linguaggio matematico mentre scorre la presentazione non mi è chiaro se si riferisce alla presentazione del diciamo la mia presentazione che sto utilizzando adesso o in generale un documento scientifico se si riferisce alla presentazione è possibile ma è piuttosto scomodo ascoltarlo mentre si sta parlando e dipende dal formato che si sta usando in una presentazione in powerpoint per esempio non è non è possibile comunque non è agevole poter esplorare seguire delle espressioni matematiche mentre si sta parlando per una presentazione in pdf generata da un file latex utilizzando per esempio il pacchetto beamer utilizzato da tutti in latex o da molti in latex per generare espressioni matematiche e se viene incluso il pacchetto accessibility allora le formule che ci sono nella presentazione si possono leggere anche mentre si scorre nel pdf va bene adesso aspettiamo per vedere se era questo che stava chiedendo lei nel frattempo ti volevo chiedere prima hai detto che questa possibilità di rendere accessibili i libri è stata fatta anche per quelli nell'ambito di psicologia giusto? mi sono riferito al fatto che alcuni contenuti scientifici in particolare matematici come per esempio la statistica non è di interesse solo per chi studia matematica fisica in generale discipline scientifiche ma può essere di interesse anche per esempio per chi studia psicologia o per chi studia economia e in futuro poi questi libri oltre a essere solo con le università interessati ci potranno essere anche quelli delle persone dei ragazzi che frequentano le scuole elementari scuole superiori di questo se volete se volete Cristian rispondo grazie allora grazie della domanda e beh posso dire che noi abbiamo tra i nostri collaboratori per fortuna anche degli insegnanti in particolare il professor Massimo Borsero è un dottore di ricerca in matematica ma da diversi anni ormai lavora in una in una scuola secondaria di primo grado e quindi naturalmente siamo molto ben consapevoli del fatto che non possiamo aspettare che una persona con disabilità visiva venga a bussare alla nostra porta e dire sono qua all'università che faccio bisogna far conoscere non solo ai ragazzini che sono molto ben disposti ma anche ai nostri colleghi a scuola dell'esistenza di queste possibilità che oggi purtroppo a scuola ancora ragazzini con disabilità visiva si sentono dire che le discipline scientifiche sono troppo difficili e non è completamente falso ecco quindi il problema qual è sostanzialmente che noi abbiamo questo forza lavoro che è quella che vi ho descritto prima e che non ha diciamo nelle sue corde la possibilità di trascrivere testi scolastici se non sulla base di qualche progetto finanziato da coloro che sono deputati a fornire testi scolastici accessibili noi lo facciamo per testi universitari perché fa parte dei nostri doveri istituzionali quello che è capitato a parte questo slogan diciamo quello che è capitato nei fatti è che da molti anni abbiamo una collaborazione con un servizio per disabili visivi del comune di Torino che è l'istituzione deputata a fornire testi accessibili ai ragazzini delle scuole allora a un certo punto quello che è capitato e che capita tuttora è che loro noi abbiamo erogato dei corsi di formazione per i loro trascrittori in modo che si mettano loro che sono quelli che lo devono fare in grado di trascrivere anche testi contenenti formule da un lato dall'altro a monte la vera soluzione del problema non è di prendere un pdf e trascriverlo in formato accessibile è di far capire alle case editrici che devono intervenire a monte all'inizio del flusso di lavoro in modo che da subito il file che viene reso o cartaceo o oggi sempre più spesso in formato ipub disponibile sui siti delle case editrici sia accessibile ma questo è una cosa che Cristian Bernareggi sta facendo da tempo per esempio con Zanichelli proprio per evitare di dover trascrivere ma come diciamo recitano tutte le buone pratiche da subito è possibile e non è difficile costa poco scrivere da subito un testo in formato accessibile su questo sono d'accordo sono molto d'accordo c'è un'altra domanda di Universal Access che chiede Cristian a proposito di dettatura vocale per scrivere le formule la lettura come sarebbe cioè l'utente come fa a leggere la formula e ciò su cui stiamo lavorando un primo livello di lettura può essere per esempio leggere tutti i simboli del tipo A più frazione numeratore 3 più A denominatore 3 meno A fine frazione per esempio questo è un modo su cui abbiamo già realizzato un prototipo ci possono essere altre cioè ci possono essere diciamo stiamo lavorando a modi a modalità di dettatura che siano più naturali in cui non sia per esempio necessario inserire o dire quando tutte le volte quando finisce un elemento per esempio cercando di provare a predire attraverso algoritmi di predizione quando un elemento finisce un elemento notazionale finisce questo è un esempio poi ci stiamo concentrando sull'italiano perché un primo passo che abbiamo fatto è quello di analizzare il modo in cui gli insegnanti di matematica leggono ad alta voce le espressioni matematiche in italiano perché mentre esistono studi su questo per l'inglese per l'italiano ad oggi non ci sono studi esaustivi che descrivano qual è la modalità naturale per leggere la matematica nel condurre questo studio per il momento l'abbiamo condotto con 20 20 insegnanti ci siamo accorti che anche soltanto il modo in cui si dice la parentesi ha circa 7-8 sinonimi possibili per dire aperta parentesi ad esempio aperta parentesi aperta tonda aperta parentesi tonda aperta semplicemente apro la tonda apriamo la tonda ci sono molti modi possibili stiamo cercando di prevederli e di fare in modo che poi la dettatura sia più vicina possibile al modo in cui in italiano si legge la matematica alcuni sistemi che ci sono per l'inglese ad esempio si basano sulle pause la nostra intenzione è cercare di non introdurre troppe pause nel parlato per non rallentare a priori la dettatura quindi se io introduco una pausa di un secondo ogni volta che finisce una parentesi se ci sono tre parentesi come minimo dura tre secondi la dettatura e se ci sono tante parentesi potrebbe diventare molto più lunga il processo non è detto che sia il migliore perché chiaramente se sto svolgendo un compito in classe anche il tempo o un esame anche il tempo ha un ruolo importante nel frattempo rispondo a Sergio più che una risposta è un commento certamente possiamo collaborare su Audio Function in particolare con Dragan che l'ha sviluppato che ora è ricercatore appunto a Milano presso l'Università di Sud di Milano Tra l'altro Sergio ha messo un altro commento dicendo che potremmo portare Cristian come esempio del fatto che le persone non vedenti possono riuscire nelle discipline scientifiche hanno dottorato in informatica forse questo era più rivolto a quello che ha detto Anna prima io posso permettermi di dire che per fortuna Cristian non è Cristian è sicuramente l'esempio di punta di come sta facendo e ha potuto fare però vi posso davvero dire che lui non è talmente eccezionale da essere l'unico che riesce in questo abbiamo esperienza per esempio pochi anni un paio di anni fa si è laureata magistrale in matematica al Milano Bicocca una ragazza non vedente che ha studiato tutto il suo corso di studi in matematica con file scritti in late e adesso ha un lavoro presso Unicredit ci sono abbiamo altri noi abbiamo avuto tantissimi collaboratori nel corso degli anni anche persone che non hanno poi scelto di studiare discipline scientifiche abbiamo conosciuto una ragazza quando faceva il quarto anno del liceo classico che poi è andata a studiare giurisprudenza adesso è negli Stati Uniti e veramente il problema non sono i ragazzi il problema sono le persone della mia generazione che devono convincere i propri colleghi che le tecnologie assistive oggi fanno in maniera accettabile migliorabile ma sanno già fare il loro lavoro ma questo purtroppo in Italia è una questione abbastanza misconosciuta ancora quindi grazie di questa opportunità Anna sono molto d'accordo con quest'ultima cosa che hai detto è vero bisognerebbe un po' smussare questa cosa che abbiamo noi in Italia diciamo e niente io vi devo ringraziare siamo arrivati alle 18 grazie a voi vi ringrazio e vi chiedo appunto se foste interessati io cercherò poi di essere presenti sul canale Slack della Track 3 quindi nel caso in cui ci fossero anche ulteriori domande approfondimenti nelle prossime ore nei prossimi giorni non so per quanto sarà attivo il canale sarò disponibile comunque sono iscritto a quel canale potrò rispondere alle eventuali ulteriori domande approfondimenti grazie davvero buonasera arrivederci buona serata grazie a tutti